dimmi allora che combini oggi sono acquarrata io acquarrata sì ho capito ho capito no senti c'è stato un problemino un problemino e sono rimasto a piedi abbaccherito 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 come abbaccherito no siccome se tu mi avanzava ancora le famose cinque euro di quella scena a fai che abbaccherito i funghi e ora che fa funghi all'udio ma dove tu sei di preciso dove tu sei io sono ai cartelli sono acquarrata acqua e sono acquarrata io sono qui abbaccherito si va ma come devo venire a prendere lei mi dà un passaggio mi viene a pigliare dove tu sei ho capito ho capito ho capito ma dove tu sei di preciso dove tu sei io sono al cartello sono il cartello di pacchetto e allora via vabbè via vengo allora ti aspetto ti aspetto dato una mossa sono sotto il sole dato una mossa cerca di far veloce vai vai grande vai 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 ma questo è paro di facciareapicana eccola ma ecco ecco guarda tu ci ha visto allora ho questa che è una macchina nuova si bellini è nuova guardiamo che fa a moto non fa tante manate nuova? questa è nuova? guarda l'ho presa ora e la pago con il finanziamento un po' per volta ma a me mi porto una sega e tu la pago un po' per volta tutta insieme ma senti ma te dove andare? senti io c'ho da andare alle poste ho da fare un po' di giri poi voglio dire ti compri le macchine non ti compri le macchine nuove io ho fatto a me che cazzo me ne frega ma quelle 5 euro famose di quella scena famosa ce l'hai o non ce l'hai? ma che c'ha ancora il coraggio di chiedermi quella scena 5 euro della scena il cinghiale che non c'era neanche ha voluto il cinghiale se stavo bene a mangiare è chiuso aspetta scusa no mi fa perdere il tempo no la barberini pronto? oh barberini amore mio si ah ti devo venire a prendere? in dove? no ah no vengo io no no vengo io vengo io ah ah no si si va bene vai vai no arrivo 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 si si aspetta eh aspetta oberlini oberlini tanto te tu non hai affamato nulla oggi eh va 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 fammi il pieno ti do vent'ero va fammi il pieno e ci si vede tra un pochino ti chiamo io ci si vede qui fra un quarto d'ora si si vai solito posto si si vai schizza schizza oi 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 come si sta una pisciata un panino una birra sotto il quercio un pieno oh vai oh vai rosa vai pieno fatto l'aniena arrivo eccolo andiamo sarda sarda la fatti il pieno eh l'ho fatto l'ho fatto muoiti 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 guido io no sta buono a guidare guido io no fa per bene capito perché io le macchine le ho sempre guidate me le porteranno apposta per fare il rodaggio il trucco di rodaggio gli hai bisogno tirare si ma va piano un trucco da te no va troppo va piano va piano si ma questa gli ha un difetto eh da un difetto lo sento gli ha un rumorino gli ha un rumorino quando su un chiodi e gli ha un rumore non chiodare per ogni novi cioè dio no no da buono ma perché non tu guidi te io non ho mia voglia di guidare un po' guidare 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 per andare in due in due sere si ma chi ha fatta questa macchina è un è un è un è un è un è un lo spazio lo spazio e chi ha ora e chi ha che ha a comprare meglio queste macchine ha comprato via ma ma io 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 oggi tutti oggi tutti si ma se la non parte per andare al chioduncio per andare al chioduncio per andare al chioduncio perché non posso te aspettarli mmm 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 oh con questa patatina ma la barberina tu la senti madonna ma no guarda e c'ho da carriare la barberina ma a volte neanche la benzina dove tu la metti c'è il sud di c'è la benzinaccia ma perché dove l'ho messa la benzina e dove l'ho messa l'ho messa l'ho messa dove tutta i benzinari ora si va e fa casino e mi sentano ora vai ma guarda non stiamo a fare queste marocchinate ma dove vuoi andare a fare casino via non lo fare il marocchino per piacere io queste cose non le faccio a me tu mi lasci qui ma la messa te o te l'hanno messa loro? io l'hanno messa loro chiamato il ragazzo e l'ha messa il ragazzo 20 euro allora vai si va da quella della messa vai vai non ti preoccupare fa casino io no 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 perché qui allora è finita ma fa casino ma fa la marocchinata via andiamo ma chi ti abbia a sentire tu la vai a comprare meglio la buona macchina il finanziamento una sei un'altra e poi non ti gira perché non ti sbagli hanno macchina di merda che coglione non si può stare una giornata senta si fida di me apra il cofano lei apra la cofana e li faccio vedere io mi si fa ripartire a parte come si dice apri il cofano eh in italiano eh vabbè via apri e li apro ma guarda dalla prova di pollici e parrebbe che tutto irregolare non ce n'è defetti fa una cosa chiama l'asle ma che cazzo dici l'asle se mai lasci poi pollici e poi che tu la toccate e basta tanto proviamo a ripartire ho provato a avessi da parte provate poca putta è ripartita oh è ripartita è ripartita è ripartita allora approfittiamone ora andiamo quando siamo siamo sopra l'apena c'è il passo si passa c'è la scontaglia si fa spiando i problemi per ora si fa un pistop e pistop perchè l'ho bisogno di co ma guarda 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 tu cominci a avere anche un'età che bene ahi quant'anni di te scusai? io sono dell'83 si credo quest'anno io tu rientri nel 37. No, io ne finisco il 37, ne finisci quest'anno se tu rientri nel 37, tu vai nel 37, tu finisci nel 36 e tu segni nel 37. No, io finisci nel 37 fino a che un altro anno le fai? L'altro anno tu sei. 83. Sì, tu rientri nel 37, tu non ha il 37, tu va per 38 ora. Ma come non c'è verso, uno ne fa il numero e uno fa la sottrazione. No, tu esci da 36 e tu entri nel 38, che sono nato da un anno ora, che non capivo. Ma come? Di 9 mesi? Di 9 mesi? Di 20 giorno. Se tu esci e tu rientri, tu entri nel 38, ma tu una 37, tu sei già nell'annuale, nell'annata del 38. Dio, mi sento male, guarda. Oh, bellini, bellini, vedete, ho provato a chiamare il lasci, ma è un piglia di lasci. Ma buon Natale se vedi a chiamare il fai, per fare rosa, per andare via, via. Ma si sta benissimo, c'è il freschino, si sta dal 10. Se faccio un buon barbino, si tranquillizza e si chiama. Buon barbino. Buon barbino. Ma io ti andato alla Barberini, ho gli appuntamenti. Ma quali appuntamenti? Che sai, chi era la ventista, la Barberini? Via, bene po', bene po'. Ma lì, ma... Dai, stasera devi mangiare a casa mia. No. Ho una macinetta? No, 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 guarda. No, no. Senti Grilli, la natura. Ma io... Ma dove cazzo mi ha portato? Ma dove ho portato, ragazzi? Ma io ti fai viaggiare, nella natura lei si lamenta, si lamenta, sempre a lamentarsi. Ma c'è le ortiche, mi sono... Ma quale ortiche? Ma lei non fa, a me non mi hanno fatto più niente, le ortiche ha neanche punta. Guarda qua. Giuseppe conto.